Oggi parliamo di un altro argomento che sicuramente sarà capitato a molti ascoltatori. La cessione o il pignoramento di un credito attraverso il quale il datore di lavoro viene coinvolto come terzo soggetto. Partiamo dal pignoramento. Un lavoratore dipendente ha un rapporto di lavoro e un debitore che si chiama datore di lavoro perché è debitore costante di uno stipendio. Però potrebbe essere anche gli stessi un debitore perché ha lasciato qualche debito aperto in giro e quindi il creditore pignoratizio può chiedere al soggetto terzo, ossia il datore di lavoro, di effettuare, attraverso ovviamente delle procedure giudiziali, un pignoramento sulla retribuzione. Il pignoramento è possibile risposta affermativa. Ci sono dei limiti legali che poi dipendono anche dal tipo di creditore. Ma generalmente il limite del pignoramento è un quinto dello stipendio. Ricordo che lo stipendio pignorabile è un quinto sia in retribuzioni correnti sia sul trattamento di fine rapporto. Al contrario, la cessione del credito, dello stipendio, è un altro provvedimento che il lavoratore in questo caso sceglie effettivamente come parte attiva e quindi il lavoratore sceglie attraverso finanziari o altri istituti di cedere una parte del proprio stipendio a un creditore terzo. In questo caso il datore di lavoro subisce anche in questo caso un provvedimento di questo tipo e può trattenere al lavoratore una quota fino massima anche in questo caso del quinto dello stipendio. Ma in questo caso c'è una particolarità che il lavoratore potrebbe anche scegliere di cedere interamente il trattamento di fine rapporto. State molto attenti a questo dettaglio perché se si tratta di una cessione dello stipendio e del trattamento di fine rapporto il lavoratore non potrà ricevere né anticipazioni su quel trattamento di fine rapporto e nemmeno ovviamente in fase di cessazione del rapporto di lavoro l'indenità completa. Questo è un dettaglio non trascurabile perché qualche volta succede che qualche datore di lavoro in modo così leggero rischiano di anticipare al lavoratore il trattamento di fine rapporto dovendolo poi anche rimborsare eventualmente nel caso anche la società cessionaria del credito. Questo è un elemento di cui vi prego di tenere conto. Buon lavoro a tutti!